il gambero che nuotava in avanti. C'era un gambero che andava in avanti e non indietro e per questo i gamberetti lo prendevano un po' in giro. Lui che era un tipo sveglio li riunì e disse loro c'è qualcuno qui presente che può dire di sicuro che non ha un bel mal di schiena? Si guardarono tutti in coro e capirono di improvviso che la schiena gli doleva. Proprio a tutti nessuno escluso. E lui con un gran sorriso e la voce altisonante disse, il motivo è lampante, a nuotare sempre indietro non vedete dove andate e la schiena vi spaccate. Da quel giorno i gamberetti vanno a scuola dall'amico che gli insegna a camminare e gli ostacoli a evitare e la schiena non fa male.